Lavorare per imprese lontane e restando sul proprio territorio, un desiderio per molti meridionali che l'impresa sociale Obiettivo Remain sta cercando di rendere realtà, organizzando centri di lavoro nel mezzogiorno e nelle aree interne per consentire ai lavoratori di restare nei loro luoghi di origine e vita, potendo fruire di un impiego senza per questo soffrire l'isolamento dello smart working. Come il meccanismo funziona sarà spiegato venerdì 19 maggio alle 15 nella sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno, in un incontro pubblico durante il quale verrà raccontata anche la prima collaborazione di Obiettivo Remain con la System Logistics di Fiorano Modenese, un'azienda leader nelle soluzioni di intralogistica e movimento materiale con oltre 850 dipendenti e 9 sedi nel mondo. L'impresa aprirà un'unità locale a Salerno con lo scopo di aumentare il proprio organico accedendo alle competenze professionali presenti sul territorio. I dipendenti salernitani di System Logistics saranno ospitati da Obiettivo Remain. Le selezioni per le prime posizioni a tempo indeterminato sono già in corso e visualizzabili sul sito dell'azienda systemlogistics.com. In questa fase Obiettivo Remain sta recuperando immobili dismessi nel sud e nelle aree interne per realizzare centri di lavoro in grado di accogliere fino a 200 giovani che scelgono di rimanere nei territori di origine lavorando per un'impresa lontana geograficamente.